Un progetto che sta proseguendo da anni grazie alla collaborazione tra provincia, FEM e settore agricolo e supportato anche dai piani specifici che abbiamo attivato in questi mesi e in questi anni. Un metodo, un approccio sicuramente che si inesta all'interno di un sistema più ampio di difesa delle fitopatie che la provincia autonoma di Trento sta perseguendo anche a livello normativo per cercare di dare risposte concrete alle nostre aziende garantendone le produzioni, la valorizzazione delle stesse, la commercializzazione. Su questo bisognerà chiedere allo Stato un lavoro di fine rispetto all'accelerità degli interventi. Sappiamo di procedure che in qualche modo non facili, noto sempre l'emissione immediata di questi insetti ma comunque credo che lavorare in gruppo, lavorare in sistema anche con la collaborazione tra FEM e gli altri istituti possa portare poi anche a delle modifiche eventuali che possano così consentire un'accelerazione di questi processi.